Mi chiamo Cinzia Candela e sono un'ortopista da 35 anni, forse qualcosina di più. Da sempre mi occupo del bel suono della nostra lingua, non solo dizione, ma non solo public speaking, ma veramente tantissimi, tantissimi campi nei quali io ho sperimentato le potenzialità della voce. Sono stata una conduttrice radiofonica, una presentatrice, un'attrice, ho lavorato nel campo delle pubbliche relazioni, nell'ambito del public speaking ho avvenuto corsi anche a professionisti molto importanti e mai come adesso sono convinta che il destino nella voce sia da scoprire e quindi se vuoi sapere quale sarà il destino che la voce, la tua voce potrà offrirti, vieni a frequentare il corso che si terrà il 7, 8 e 9 di luglio presso la Sala Italia a Fasano, al Parco Hotel Sant'Elia. Il pomeriggio quindi è un laboratorio esperienziale dove farete esperienza di quello che è il frutto del mio lavoro. 35 anni, pensate, veramente dedicati alla conoscenza, all'approfondimento di tutte le potenzialità che la voce può offrire perché il destino è scritto anche nella tua capacità di saper comunicare chi sei nella tua abilità nel saperti esprimere. Ti aspetto!